Veniamo da una settimana fatta di un buon allenamento, fatta di grandi contenuti e quindi siamo ovviamente fiduciosi nel fare una buona prova anche con una squadra così importante e ostica che secondo me non rispecchia assolutamente il risultato della sua ultima gara. Diciamo che come abbiamo visto anche in queste ultime due partite noi cerchiamo, tendiamo ovviamente a dare spazio e tra virgolette protagonismo nel modello un po' a tutti quanti se ci si riesce perché stiamo appunto lavorando su questo su un'intercambiabilità di ruoli, sul fatto di poter fare le persone che possano fare più ruoli possibile nel corso stesso della partita quindi diciamo che questo è il nostro obiettivo. Poi ovvio che in linea di massima per gli 11 titolari tutti vorremmo ovviamente che potessimo scendere in 22 ma ne scendono 11 poi ci sono quei 5-6 dove comunque è importante averli in campo. Prima di allenamento oggi abbiamo fatto una riunione solo con gli under appunto per far capire loro la loro importanza e questa loro importanza poi è palese perché poi negli ultime gare ci hanno diciamo aiutato loro a raggiungere l'obiettivo. Posso chiederti mister, dopo il primo turno di campionato, dopo aver visto magari anche qualche immagine in più delle sfide delle altre squadre, che tipo di immagine ti ritorna del girone in cui sei impegnato? Beh mi torna sicuramente un'immagine che era tra virgolette quella che ci eravamo un pochino prefissati o attesi anche prima delle immagini dove Frattese e Puteolana hanno fatto nel primo turno diciamo bottino pieno importante ma ripeto nel caso specifico contro l'Ercolanese è stata una partita che non rispeccia secondo me il punteggio per quanto riguarda l'Ercolanese quindi è una squadra importante secondo me una squadra che ha delle qualità che mette in difficoltà tutti. Poi è ovvio che tutte le altre squadre cercano di tra virgolette inseguire quello che oggi sulla carta almeno dalla prima giornata hanno fatto un bottino super pieno tra virgolette. Ti posso chiedere visto che domani inizia il campionato dell'Acquameno se c'è un messaggio che vuoi lanciare alla piazza la tua ex squadra? Beh assolutamente i ragazzi lì vengono da diciamo da due anni belli, importanti dove hanno raggiunto dei traguardi a volte anzi spesso non attesi e ovviamente gli auguro di raggiungere i loro obiettivi perché se lo meritano loro come tutta tutta la società.